Parliamo di calcio, di calcio giovanile, iniziano finalmente i tornei che vedono impegnate le formazioni dei nostri settori giovanili e lo facciamo con il responsabile del settore giovanile della Virtus San Giustino, perdonatemi l'ho detto quattro volte, settore giovanile, però Valerio Piccinelli sei qua per parlarci del Valtiberina Green? Sì, spiegaci. Abbiamo deciso quest'anno di iniziare questa nuova avventura tenendo conto che siamo in un luogo che è a metà fra Toscana e Umbria, tenendo conto che abbiamo degli impianti importanti con tanti campi, tanti sfogliatoi, quindi con la possibilità di gestire un torneo di lunga durata, visto che hanno scelto alla Vivi Altotevere di non fare, di non ripetere il torneo Elker, abbiamo deciso di intraprendere questa avventura a noi della Virtus. E quindi abbiamo iniziato questo percorso e lo stiamo portando a termine in questi giorni, ti posso dire già che ci sono già 22 squadre iscritte al torneo, si sta facendo i calendari, quindi con tante partite. È un torneo che va dagli allievi fino ai piccoli amici 2015-2016, avrà una durata dal 3 di maggio al 19 di giugno e funzionerà come sempre in uno stand gastronomico. Mi tolgo una curiosità, quante le formazioni iscritte? Le squadre sono 22, le formazioni sono 160. Quindi 22 società, 160? Sì, mi sembra che ieri sera almeno questi erano i numeri. Le società me le ricordo sicuro, dopo lo sviluppo dei calendari tutto non mi ricordo. Le società vanno dalla San Pierana al Casentino, alla Bibienese, al Cortona, al Bastia, al San Marco, quindi si spazia oltre quelle nostre qui vicino che ovviamente partecipano al nostro torneo, meno alla Bibialto Tevere che non ha dato la propria adesione, siamo presenti sia in Toscana sia in Umbria. Senti, riparlare di calcio giovanile, di tornei dopo due anni e mezzo di lockdown ci dà un po' di serenità. Noi abbiamo veramente tanto bisogno di serenità. Ma le famiglie come hanno preso sta parziale normalità? Perché io quando passo e quando vado a San Sepolcro vedi il campetto pieno, con le mamme sulle tribune, che guardano i bimbi allenarsi. E sono convinto che sono felici di questo. E sembra ci sia un tante euforia, no? Sì, diciamo che questo periodo nel quale è stato difficile gestire il gioco del calcio ha un po' segnato sia le famiglie che i bambini. Devo dire che a dispetto di numeri che dicono di ragazzi che hanno abbandonato il calcio per altre attività, da noi onestamente questo fenomeno non si è verificato. Quindi noi in questo momento siamo in piena attività con tutti i ragazzi disponibili ed è certo che anche questo torneo è un modo per venire al campo, per stare insieme, per passare due ore con serenità, con tranquillità. Quindi credo che tutto questo faccia parte dello sport e che possa essere di aiuto sia alle famiglie sia ai genitori. Gli orari? Gli orari cominceremo come al solito verso le 5 e mezzo, le 6 la sera fino alle 10, 10 e mezza, 10 e mezza di sera. Credo ci sia concomitanza anche con le partite della prima squadra, ne mancano alcune? Sì, ma abbiamo fatto un po' di conteggi lasciando liberi i giorni della prima squadra e quindi ci abbiamo pensato, devo dire. Quindi i ragazzi si alleneranno comunque con il campo a disposizione? Sì, sì, sì. No, no, ma noi ragazzi abbiamo un campo in sintetico, un altro campettino vicino, abbiamo un antistadio grande come lo stadio, quindi problemi non ci sono sotto le stazioni. Per cui cominci... Tutto al comunale? Sì, sì. Quindi l'antistadio? No, non si usa, non si usa. C'è, se domani si sa mai, ma è il tempo o che, però abbiamo considerato, abbiamo lasciato dei giorni liberi per poter eventualmente recuperare qualche giorno di cattivo tempo. Sarà felice il Presidente Fabri perché so quanto tiene al tappeto verde del comunale. Questo è messo in previsione, quindi il problema è se finisce il 19 o il 20, ora mi ricordo di preciso, se finisce il 20, preoccupati il 21 di essere lì con gli operai per cominciare a sistemare il campo. Senti, farete una presentazione del torneo, lo avete già fatto? Sì, no, no, adesso aspettiamo un attimo, stiamo gestendo i calendari in maniera per dare possibilità alle società di organizzarsi con altri tornei che devono fare e poi faremo una presentazione del torneo un po' prima dell'inizio del torneo. Ti faccio un'altra domanda, perché non se ne parla mai tanto, anche tanti giovani arbitri coinvolti, credo, per chi? Sì, infatti noi abbiamo parlato con Magrini che è il responsabile della sezione arbitri di Città di Castello, gli abbiamo spiegato le nostre esigenze e loro sono ben felici, ben contenti di aiutarci in questo nostro percorso. Ti faccio un'ultima domanda, che è questa. Ci siamo lasciati, credo un anno e mezzo fa, con dei numeri importanti, oltre 200 iscritti alla Virtus, mi dicevi che quindi il lockdown non è andato a intaccare questi numeri, ma sono saliti o siete rimasti più o meno intorno a quei numeri lì? No, più o meno siamo rimasti intorno a quei numeri lì, forse qualcosa più su certi gruppi di piccoli sì, però capisci che noi se riusciamo a gestire i nostri numeri sono tanti, comunque abbiamo Pistrino, abbiamo Lama, abbiamo Sansepolcro, quindi il fatto di gestire bene il nostro settore giovanile ci dà la possibilità che i nostri ragazzi, ma vedi, noi adesso facciamo questo torneo, io ho chiesto ai genitori se c'era la disponibilità comunque di dar una mano da volontari su questo tipo di discorso, perché altrimenti la prima riunione che abbiamo fatto chiedendo nei gruppi questo qui, si è presentato 40 persone. Per dare una mano? Sì, 40 persone. Ti rendi conto? Abbiamo visto un attimo per adesso, l'altra sera ho una riunione solo per un discorso organizzativo, senza l'esterno solo a livello di stand, eravamo già 18, quindi adesso ce ne sono altre che danno una mano all'interno dello stadio, dai biglietti, agli spogliatoi, a queste cose qui, quindi abbiamo già 25-26 persone che sono disponibili e entusiaste di dare una mano, questo vuol dire che comunque questi sono persone fidelizzate, persone che credono in quello che noi facciamo e nel progetto che cerchiamo di portare avanti. Un impegno così importante avrà sicuramente dei costi, gli sponsor vi hanno dato una mano? Questo lo sappiamo, gli sponsor del San Giustino ormai sono storici, altri ci hanno dato una mano sotto vari punti di vista, per cui pensiamo che comunque questo torneo non dovrebbe essere alla fine del Salmo non dovrebbe essere un costo, ma dovrebbe darci la possibilità di stare 40 giorni insieme alla gente, insieme ai ragazzi. Una bella vetrina. Una bella vetrina e di non rimettere dei soldi, insomma, ecco. Allora, ricorda le date? 3 maggio, 19 giugno. C'è ancora tempo eventualmente se qualcuno volesse iscriversi? No, ormai abbiamo chiuso, abbiamo fatto i calendari e bastano così perché altrimenti sarebbe poi difficile gestirli. Bene, di nuovo grazie a Valerio Piccinelli, ci fermiamo qua e buon proseguimento di serata.